Siamo qui con Claudio Velardi, fondatore della Società di Comunicazione Reti, che ha apprezzato la sua esperienza alla Link Campus University, riprogettando il corso di comunicazione. Ci parli delle idee che stanno alla base di questo nuovo corso molto innovativo e sperimentale? La prima idea parte dalla mia esperienza, perché io vedo, noi vediamo qui decine e decine di ragazzi che escono dalle Facoltà di Scienze della Comunicazione, in alcuni casi, per amor di Dio, sono anche molto bravi. Però generalmente io avverto sempre un deficit di formazione, che definirei un po' così. Questi ragazzi arrivano qui per fare esperienze lavorative avendo una sorta di infarinatura di tutto. Il che non è bene, perché in realtà spesso questi ragazzi non hanno né una formazione teorica solida e adeguata, né tanto più una formazione fatta sul campo. Quindi una esperienza fatta di laboratori, di realtà viva, che invece poi è la cosa che conta di più. Quindi con questa progettazione che abbiamo fatto io vorrei un po' superare questa sorta di aurea mediocritas, diciamo, in cui si trovano a vivere coloro che affrontano gli studi in comunicazione. E quindi dare invece a questo corso che abbiamo progettato appunto il massimo di rigore e di forza teorica, ma poi il massimo di esperienza sul campo, cioè laboratori veri che consentano ai ragazzi di fare un'esperienza reale. In particolare notavo una grande attenzione a quelli che sono i corsi di specializzazione, che sono molto adatti ai nostri tempi, come la specializzazione per quanto riguarda la comunicazione sui network, sulle reti o anche la comunicazione in rapporto alle performing arts. In particolare il corso di comunicazione e potere. Volevo chiederle a questo proposito, anche in virtù della sua esperienza, qual è il ruolo della comunicazione e il rapporto al potere, specialmente in un'epoca in cui non si fa più riferimento solo ai media come la televisione, le radio e i giornali, ma anche tanto alla comunicazione di internet. Le specializzazioni sono quattro. C'è una specializzazione in teoria delle reti, che per me ha un grandissimo rilievo perché in fondo oggi tutto quanto il mondo vive in rete, e non parlo solamente della grande rete di internet, parlo di tutte quante le esperienze in network che sono fondamentali per fare crescere la professionalità dei ragazzi, dei nuovi comunicatori. Abbiamo poi una specializzazione in comunicazione e territorio, altro punto cruciale, proprio in questi giorni, anche a fronte di quello che è successo con le ultime elezioni, con i referendum di questi giorni, noi stiamo sperimentando quanto è cruciale l'adesione vera al territorio, ai temi locali cosiddetti, e quindi com'è importante che poi queste tematiche del territorio siano comunicate nella maniera giusta. Il terzo aspetto cruciale, poi vengo al punto che lei mi chiedeva, è questo della comunicazione emotiva, legato anche naturalmente alle performing arts, ma non solo, che è un grandissimo ambito tematico, che a me sta a cuore moltissimo, perché in sostanza un bravo comunicatore è vero che deve avere delle grandi capacità teoriche e pratiche, ma poi deve essere lui stesso, come dire, o lei stessa un fattore di comunicazione, quindi deve essere capace di creare empatia con chiunque, diciamo, ci si trovi a relazionare. E allora lavorare su questi aspetti, diciamo, della comunicazione emotiva, mi pare sia un'innovazione grande, diciamo che non si fa in nessun'altra università. E infine, quarto punto, questo è la comunicazione e il potere, in cui mettiamo un po' i piedi nel piatto, perché della comunicazione spesso si parla in maniera un po' anodina, un po' tecnicistica, ma in realtà l'essenza, diciamo, della comunicazione sta nella capacità di sapere creare relazioni e di sapere strutturarsi in maniera forte con il potere, che non è una cattiva parola, spesso viene considerata così, ma in realtà il potere di tutti quanti noi cresce se noi sappiamo comunicarci e comunicare i nostri obiettivi, le nostre ambizioni oppure le aziende per cui lavoriamo. Comunicazione e il potere è un tema naturalmente attualissimo, anche considerando appunto gli ultimi sviluppi, per esempio, della vicenda italiana. Pensiamo solamente appunto ai risultati referendari di ieri e dell'altro ieri, a quanto hanno inciso questi grandi network comunicativi che in rete pare che abbiano fatto la differenza, diciamo, anche nel portare la gente al voto. Ecco, è uno dei tanti aspetti di questo ambito tematico del rapporto tra comunicazione e potere che metteremo a fuoco. Un'ultima domanda. In base alla sua esperienza, al suo vissuto, cosa deve sapere o saper fare un buon comunicatore? Questa è una domanda a cui risposta è molto difficile perché naturalmente un bravo comunicatore deve avere delle nozioni teoriche molto profonde e molto strutturate, deve avere una grande capacità pratica, deve essere anche un grande risolutore di problemi, però se dovessi dire in sintesi qual è la capacità che un comunicatore deve avere, definirei con una parolina che è curiosità. Un bravo comunicatore deve essere curioso del mondo, deve stare sempre con l'orecchio a terra per capire, cercare di capire che cosa succede al mondo perché se è curioso di quello che succede al mondo, intanto capirà tutti quanti gli aspetti. Il mondo è comunicazione, è tutto il nostro mondo che è comunicazione. Se tu non sei curioso del mondo in cui viviamo, non puoi fare il comunicatore. Se invece il mondo ti incuriosisce e quindi ti appassiona la possibilità, la necessità di mettere in comunicazione te stesso con il mondo, allora vuol dire che hai le qualità giuste per diventare un bravo professionista della comunicazione. Grazie mille. Grazie a voi.